Doveva essere una chiusura temporanea, ma la casa di Vincenzo da novembre dello scorso anno non può dare un rifugio notturno ai tanti senza tetto che vivono in città. La struttura degli ex magazzini generali era il luogo simbolo verso gli ultimi. Inaugurata in Pompa Magna circa due anni fa, la casa è nata grazie ad alcuni fondi stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile. Ricavata all'interno degli ex magazzini generali di fronte al porto storico, forniva la possibilità di una doccia e un letto dove passare la notte a circa una ventina di persone. Una struttura che resisteva grazie all'impegno del volontariato, che però nulla ha potuto contro le invasioni di Blatte, Topi e altri infestanti che non potevano essere debellati se non con interventi radicali e costosi. Il comune non ha potuto intervenire e quindi i locali sono stati chiusi. L'assessore Nina Santisi aveva assicurato comunque che si sarebbe trattato di una chiusura breve. Dovevano mettersi a punto anche alcuni interventi di sistemazione ripetutamente chiesti, soprattutto da padre Francesco Pati, rappresentante della cooperativa Santa Maria della Strada, che gestiva la struttura e che già in una nota dello scorso 6 novembre comunicava la necessità di chiudere, chiedendo al comune l'urgente attivazione di un tavolo per programmare soluzioni durature. L'esponente della giunta aveva poi ipotizzato l'apertura definitiva a metà febbraio, ma ancora porte sbarrate alla casa d'accoglienza. Da Palazzo Zanc non arrivano ancora né soluzioni né programmi o interventi concreti.